Le attività economiche, gli stili di vita, le pratiche religiose, gli aspetti culturali e ludici di una città italiana tra il 1000 e il 1500. Si è aperta la mostra Un giorno nel Medioevo, di scena fino al prossimo 6 gennaio alle Logge dei Tiratoi di Gubbio. Una rassegna promossa e organizzata dalla Fondazione Cari Perugia Arte, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e in sinergia con il Festival del Medioevo, che vuole documentare un'epoca troppo spesso distorta e mistificata, ricostruita attraverso luoghi comuni e pregiudizi. E non poteva che essere Gubbio la sede ideale per un evento espositivo di questo calibro. La scelta è obbligatoria, direi, perché Gubbio è senz'altro la città medioevale che noi abbiamo un po' in mente, come la città medioevale per l'autonomasia in Italia, forse in Europa. Quindi la scelta non poteva essere diversa. Noi facendo questa mostra riteniamo anche di dare una dimostrazione che il Medioevo non è solo quello che superficialmente può apparire i secoli bui, l'oscurantismo. No, il Medioevo sotto ci sono delle forze profonde che sono le forze dell'uomo, dell'individuo che ha una sua vita, la vita degli uomini, delle famiglie. Tanti documenti e le curiosità che emergono dalla rassegna espositiva alle logge, da un trattato medico impreziosito da figure anatomiche per fornire consigli su come evitare la peste, ma anche strumenti utili alla vita di tutti i giorni, dalle armi per difendere la città, ai banchi di commercio e delle attività economiche, fino agli aspetti più intimi della quotidianità, dalla dimensione religiosa, al letto e alla tavola imbandita per i pasti, agli svaghi e alla musica di una società che sapeva anche gioire e divertirsi. Il percorso progettato nelle sei sezioni, uno spazio difeso, la città dei mestieri, un mondo impregnato di Dio, la casa e il primo status symbol, saperi e professioni intellettuali e giochi di bambini passatempi di adulti, illustra gli aspetti contraddittori e dinamici, multiformi e sorprendenti di un giorno nel Medioevo, con alcune chicche, come un documento della famiglia di Marco Polo che arriva direttamente dall'archivio di Stato di Venezia. Da Venezia abbiamo portato, proprio per testimoniare le attività, le molteplici attività del Medioevo, anche una sentenza, cioè un'attività quindi giudiziaria, è una sentenza emessa dal magistrato che restituisce a Fantina Polo, figlia di Marco Polo, la sua dote dopo la morte del marito. In questa dote c'è l'inventario di beni che in gran parte il padre gli aveva dato e aveva portato dalla Cina. Dovrebbero essere cinque i nostri pezzi in mostra, provengono sia dalla sede di Gubbio che è una sezione dell'archivio di Stato di Perugia, che è l'ente, diciamo, l'istituto a livello provinciale. Poi da Perugia abbiamo portato anche un paio di pezzi, diciamo, dei più significativi, quelli che grosso modo meglio contribuiscono a raccontare, entrano nello spirito della mostra, raccontare poi come era la città medievale. Che sono esempio di uno di questi documenti? Ma per esempio c'è lo statuto dell'arte dei calzolari che è significativo perché, per esempio, una delle attività più prospere, più importanti anche era quella, diciamo, di fabbricare le scarpe perché era un'esigenza quotidiana, proprio come dice il titolo stesso della mostra. Più di 30 musei, archivi di Stato, biblioteche, diocesi, istituzioni pubbliche, associazioni e collezionisti privati hanno contribuito alla realizzazione della mostra, prestando opere, documenti e manufatti originali e unici, come gli archivi di Stato di Venezia, Perugia, con la sezione di Gubbio e Ancona, il Museo del Vino e della Fondazione Lungarotti, l'Università degli Studi di Perugia e il Museo delle Armi di Brescia. Circa 100 i pezzi in mostra, con ricostruzioni ad opera delle quattro gaite che ogni anno mettono in scena il mercato medievale di Bevagna, copie realizzate dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, riproduzioni in scala del Comune di Perugia. Stringente e foriera di ulteriori sviluppi, poi la sinergia con il Festival del Medioevo, testimoniata anche dalla presenza di alcuni protagonisti della rassegna che torna a Gubbio a fine settembre. È coerente con il Festival del Medioevo, è una mostra che vuole essere didascalica, divulgativa. Il nostro contributo, abbiamo accolto volentieri l'invito della Fondazione Cari Perugia, perché il Festival del Medioevo ha fornito, abbiamo contribuito a questa mostra soprattutto con alcuni video, poi vedrete, video di tre minuti dei massimi medievisti italiani che spiegano i vari aspetti della vita medievale, quindi è un arricchimento, è un pre-festival diciamo. Un'anticipazione, visto che si parlerà di barbari in questa nuova edizione? Sì, si parlerà di barbari, ma non solo delle invasioni barbariche, ma dei barbari in senso lato, quelli che letteralmente parlano un'altra lingua da noi, i barbar, che però poi conosciamo, si integrano con noi, quindi parleremo di molti argomenti interessati e molto anche di Gubbio, naturalmente, per valorizzare questa splendida città. E così lo storico Alberto Groman regala ai visitatori la panoramica a volo d'uccello su una città medievale, mentre Franco Cardini parla di scienza e conoscenza e Massimo Montanari spiega la tavola come centro di potere. Da Maria Giuseppina Muzzarelli a Franco Mezzanotte e Giovanni Vitolo sono 18 gli storici autori di altrettanti video che corredano ogni sezione della mostra. Il percorso espositivo è arricchito insomma da mini lezioni di storia. Il progetto, voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, punta a valorizzare ulteriormente anche il pregevole contenitore, da alcuni anni recuperato e di proprietà dell'Istituto Finanziario, ovvero le seicentesche loggie dei tiratoi, i cui lavori di risistemazione, come confermato dal Presidente Onorario, sono prossimi al completamento. Io ritengo che questo tipo di manifestazioni che si fanno in continuazione in Umbria, nelle sedie espositive della Fondazione, sono una chiara testimoniante della spinta che si intende dare ai territori. Quindi Gubbio per eccellenza, come avete visto questo luogo è diventato un luogo veramente utilizzato e sarà ampliato con i lavori che stanno procedendo e quindi sicuramente magari mi auguro che la prossima mostra possa essere molto più interessante anche dal punto di vista degli spazi espositivi. Noi speriamo che questi spazi siano sempre più utilizzati perché hanno veramente delle caratteristiche adatte ad ospitare sia opere d'arte, mostre che eventi come questo che espongono oggetti del vitevere quotidiano e quindi noi siamo ben lieti di metterlo a disposizione della cittadinanza e della comunità Umbra. Credo che Gubbio abbia questa qualifica ormai, è un po' la capitale del Medioevo in Italia, perlomeno di un modo nuovo di raccontare il Medioevo, lontano dagli stereotipi, più vicino alla realtà storica, più attento alle fonti e alla qualità anche della informazione e della comunicazione storica. Grazie a tutti.